La routine è sinonimo di noia mortale o stratagemma utile? Per me è noia mortale. Beh, se si tratta di fare tutti i giorni le stesse cose, forse sì. Ma se si parla di benessere, le routine sono il migliore alleato per vivere sani e felici. Ce lo dicono le più recenti ricerche di neuroscienza. Le routine ci aiutano a darci calma, sicurezza, ci proteggono da un mondo sempre più caotico e aggressivo, pieno di stimoli concettuali e sensoriali, spesso in conflitto tra loro. Ovviamente non si tratta di trasformare la vita in una routine ripetitiva, nessuno la vuole, ma di creare tante piccole routine per le cose importanti. Così siamo sicuri di dedicare il giusto tempo e la giusta cura a quello che ci sta a cuore. Alcuni esempi? Fare meditazione al mattino, bere una tisana calda alla sera, sentirsi o vedersi con le amiche ogni sabato pomeriggio, fare il bagno con quell'incenso profumato e le candeline, togliersi le scarpe appena entrate in casa. Le routine si possono creare da soli, ma anche con il partner o con i familiari. Anzi, creare routine per l'intimità di coppia o nel rapporto con i figli rafforza le relazioni affettive. È dimostrato. Per le neuroscienze tutto questo mantiene regolari i livelli di dopamina e serotonina, regola il ciclo circadiano e la produzione di HGH, l'importante ormone della crescita. Anche metabolismo, energia, umore e tutte le emozioni positive beneficiano delle routine. Per questo migliorano anche i rapporti di coppia. E così non solo viviamo meglio, ma c'è anche più felicità per noi e per gli altri. Per questo sul mio canale ho dedicato proprio alle routine diversi video dalla mattina alla sera. Andate a vederli! Se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!